Siamo tornati in zona gialla, quindi vi chiedo, avete magari approfittato di un caffè al bar? Esattamente, noi siamo di Udine e appena possiamo navigare arriviamo qua. Un giro turistico a Trieste non guasta mai, almeno per rimanere in regione si può, insomma approfittiamo per quello. Siccome noi siamo molto innamorati di Trieste, appena ci mollano veniamo qui. Sì, sicuramente, quello subito perché il caffè al bar manca, ecco, quello subito. Ogni volta che c'è la gialla approfittiamo sempre perché abbiamo il nostro bar per freddo. Sì, assolutamente, siamo appena usciti e oggi era proprio una giornata da passare così a passeggio, comunque ai bar. Noi siamo in un paese comunque della provincia di Udine e abbiamo detto avviciniamoci in una città più grossetta, ecco, che ha di più da offrire. Sì, sì, anche io, infatti sono anche io appena uscito dal bar, essendo il primo giorno così, sempre nel rispetto delle regole, comunque sì, il caffè al bar ci sta. È una bella città, una bella passeggiata, alla fine si sta all'aperto e fa sempre piacere una passeggiata sul mare.